The Blood Moon is rising? No 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 dobbiamo correre Cioè di già come cazzo Cioè ogni tot giorni c'è sta cazzo no 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 qua non abbiamo neanche cibo e non corriamo neanche bene No no sono già iniziati a spawnare Guarda Tre solo qua guarda 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 che roba Il tuo status scocciatore Ti stiamo osservando il lumi sei avvisato hai capito Solo perché non ho portato ho accettato una missione che dovevo portare un budino nero al marito di quella donna Non l'ho dato in tempo mi stanno osservando cioè sono avvisato Ciao a tutti amici simpaticissimi Oggi vi porto a fare un tour nella MMM A Minecraft Midinator Mode Dove eravamo rimasti dove eravamo rimasti non lo so perché sto streamando molto su Twitch E quindi qui alla fine per comodità mi sa nulla è sicuro come sempre Però quello che sto notando è che appunto streamo abbastanza di frequente su Twitch E quindi vado avanti lì Non avendo un editor Streamando ripeto appunto parecchio eccetera eccetera Non arrivo insomma a prendermi ore e ore di live E ritagliarle tutte Scaricarle Riguardarle tutte Cercare punti interessanti eccetera eccetera Quindi ho pensato che probabilmente farò una cosa del genere Streamo su Twitch Streamo streamo Proseguo Dopodiché Ogni tanto farò degli episodi di aggiornamento Potrebbe Potrebbe Anzi è già così da un po' Anche la serie ASMR su Minecraft Cioè faccio delle live dove porto avanti un po' la serie Non ASMR Però poi faccio anche l'episodio ASMR Giusto appunto per portarmi avanti Se no Se no faccio fatica Faccio fatica realmente Ci sono ovviamente tante cose da fare Allora Partiamo Adesso facciamo un po' di esplorazione Perché sono cambiate un po' di cose Non so quanto effettivamente dall'ultimo Dall'ultimo video Però un po' di cose ci sono Allora qua mi sono messo Una piccola cesta Con dentro delle cose base Nel senso che se muoio Ho pensato E Per qualche motivo Devo ripartire Almeno Spawno qua E posso subito Raccogliere Rifarmi un piccolo inventario Di quello che mi serve Per Per ripartire Poi Vabbè Quelle nostre Eh no però Non può andare così Avanti così Cioè io ogni volta che apro una porta Perdo una gallina Cioè Vediamo che ieri ne è spawnata una Niente Eh Questa è la mia spada di ferro Super potenziata Con 25 livelli Mi sembra un po' una merda In ogni caso Ruttino Oh Eccoli A proposito Già che eravamo di sotto Appunto Non vi ho fatto vedere Questo Cosa ho fatto in poche parole Sono andato su un isolotto Di quelli volanti Ho preso Della terra Viscida blu Aveva un altro Aveva un altro nome Prima Ehm Ho trovato Un Ramoscello Bellissimo Luminoso Di Di questo tipo Di pianta E l'ho provato appunto A piazzare su un blocco Così Ho usato 32 Mi pare Bon mille E non è servito A niente Poi sono andato in miniera Sono tornato E bam Spawnato l'albero Quindi ci sta anche Una farm di slime In questo senso Perché il tronco È fatto di Cubi di slime Quelli gelatinosi Che ci salti sopra Rimbalzi E le foglie gelatinose Probabilmente Se le raccogli con la forbice In qualche modo Ci puoi fare qualcosa Però l'albero è fighissimo Il colore è fighissimo C'è le foglie A me piacciono Un casino Quindi boh Vedremo dove fare Una struttura del genere Poi Poi Aspetta che qua In realtà Noi abbiamo raccolto Abbiamo Spendiamo un attimo Una zappa E dovevamo avere Eccola qua Una carota in pratica Quello che succede Quello che succede Lì abbiamo fatto Un'incudine Con quasi tutto Il nostro ferro Però di recente Siamo stati anche in miniera Ne abbiamo recuperato assai E qui Vogliamo Ah non c'è più Cazzo Vogliamo mettere giù Già le carote Da Iniziare a sviluppare Sto giardino qua Con queste Essenze qua Che si trovano in giro Non mi piace Perché comunque Appunto Ti Ti curano poco e niente E Non E non si Farma bene Perché Piazzo Una rachide Può essere che Me ne Quando è matura Me ne ridroppa una Quindi Siamo sempre Punto a capo E mi occupo ovviamente Un posto di coltura Quindi probabilmente Quella parte lì Verrà tutta rimossa Qui abbiamo Il grano Che invece va Abbastanza bene Non ci sarà Anzi Perché no Già che siamo qua Ci facciamo una Così ci preparo Un po' di panini Che sono sicuramente Più comodi Delle Angurie Cioè Più comodi Delle angurie Non c'è niente A mio avviso Però Ovviamente I panini Ristorano di più E probabilmente Durano anche di più Non lo so Questo Comunque Tanti tanti aggiornamenti Adesso vi faccio vedere Abbiamo un po' da fare C'è solo da vedere C'è un po' da vedere Così anche chi si è perso Magari faccio rivedere Alcune cose Anche che c'erano Nell'episodio precedente Però Così chi se l'è perso Senza riguardare Insomma Si guarda questo E ha un po' di Ha un po' recuperato Ecco Craftiamo I panini E si riparte Allora In pratica Adesso abbiamo Sopra C'è questo stanzino Che è rimasto Invariato Ok Col portale Al limite Non so se l'avevate visto Ma Probabilmente Anche lì Il portale Cambierà Positioning Vai Non so Qui non è cambiato niente Abbiamo sempre Il nostro Mini stanzino Di farm Canne da zucchero Qui Abbiamo il magazzino Già bello Carico di cobblestone Perché Adesso vi faccio vedere Cosa ho fatto Cibo C'è stata una cosa strana Abbiamo trovato Un altro cuore rosso Nella stessa cesta Degli scheletri Non ho capito Se eri spawnato Qui invece minerali Al momento sono Le tre ceste Qui c'è il pozzetto Dell'acqua infinita Molto carino Con un pezzo di Balconcino Tra virgolette La nostra Scalinata Che ci porta In biblioteca E stanza Incantesimi Nonché Bellissimo Balconcino Anche qui Con vista Quando potenzieremo Finalmente il pc Perché a sto giro Ci è andata male Forse Ci vorremmo fare qualcosa Qui stavo facendo Un nuovo ingresso Come potete vedere Molto carino Molto carino Secondo me Questa Questa situation Che va a crearsi E lì Stanza pozioni Si preparerà Ovviamente Sicuramente Adesso Vi faccio vedere L'ultimo Non lo so Update E questo è bello Questo è bello Allora Ok Qui è cambiato qualcosa Ovvero Ho aggiornato L'ascensore acquatico L'ho L'ho fatto tutto Di scale a pioli Tranne l'ultimo pezzettino Che è ancora Di acqua Va bene Così Qui Allora Perché A proposito Il link di twitch Del mio canale Lo trovate in descrizione Se volete venire A farmi compagnia in live Comunque Da questa c'era la miniera E appunto Nell'ultima live Sono Ho fatto molta esplorazione Ho fatto molta esplorazione E ho trovato Un nuovo villaggio Bellissimo Gigantesco Mi ci devo trasferire Assolutamente Perché è una figata E Però Appunto E sono morto Anche tre volte Ecco Sono di recente Morto Spesso Tentando più che altro Di recuperare Anche i miei materiali Non di qui Quindi Nel senso opposto Al quale Al tunnel Che ho scavato Minerario Adesso è messa Un po' di merda Però lasciamo perdere Ho fatto Un altro tunnel Perché bisognava Andare di qua E adesso Dove vi porto Dove vi porto Esattamente Alla città della luce Io l'ho chiamata Mi viene da chiamarla In realtà Praticamente Praticamente Ehi Au Hai 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 Praticamente Mi si sente Non lo so Mi ispira poco Qua il volume Non mi sembra Molto Alto Vabbè E Quello che è successo Poche Pochissime parole È che Quando sono arrivato A sta città della luce Quello che è successo È che Mi è venuta fuori La notifica La luna rossa Sta arrivando Ed ecco Se vi ricordate Mi pare Nell'episodio 2 3 Cosa Cosa fu Cosa fu A trasformare Tutto in rosso Il fatto che Non posso dormire Quindi dovevo Affrontare per forza La notte Cioè È una merda Perché è un casino Ho capito anche Perché c'era sul Ponte Quel giorno lì Cioè Quella sera lì Il creeper Praticamente La notte Della luna rossa C'è Spawna Un mob Per cubo Praticamente Ero in Era appunto In questo villaggio È arrivata La luna rossa C'erano Tanti Di quei mob Ma Mi son buttato Per dire So scappato Due secondi In acqua Mi giro E avevo Una flotta Di zombie Penso che Siano stati Così a occhio All'incirca Sicuramente Trenta Sicuramente Trenta Ma Ma solo dietro di me Solo già in acqua Come io mi son buttato in acqua Già ce n'erano Trenta Cioè Era fuori di testa Una cosa Incredibile E quindi Super spawn Di mob E quella sera Lì È logicamente Finito un creeper Sul nostro Sul nostro Ponte Naruto Questo blocchetto Io so che mi ha rotto le palle Ma non ho dietro picconi Noob Stavo provando Con questo villaggio Ho trovato una Donna Che mi ha dato una quest La mia prima quest Però ovviamente morendo E bla 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 Era a tempo Non lo sapevo Era a tempo L'ho scaduta E l'ho persa E ho perso 195 Tipo Punti Reputazione Che con i villaggi Se vi ricordate Appunto è una cosa Molto importante Per progredire Quindi Non so quanti siano Non so cosa comporta Questo Comunque ci sono ripassato Al villaggio Non è che mi picchiano Al momento Al momento almeno E Non lo so Vediamo vediamo Siamo quasi arrivati In teoria No Tet 500 No non siamo Sì perché si sale Ah è che abbiamo Un pezzettino Da fare Qua ci sono tantissimi zombie Si sbatte benissimo La testa Eh un po' così Devo farlo ancora bello Il tunnel Perché l'alternativa Qual era? Era quella di fare Una Una super strada volante Ma Oddio Con tutti i materiali Che mi sarebbero serviti Eccetera 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 E costruirla Ho detto vabbè Ci facciamo qualche piccone in più E piuttosto La miniamo sotto terra E via Qui allora Si sbuca qui Era per farla un po' più smart Senza passare per tanti mob Però è notte Cazzo Non mi piace Eee Non mi piace Aspetta Aspetta che forse abbiamo Il modo di passare la notte Perché qua Eh vedete che lì c'è luce Eccola Lì c'è luce C'è un campfire Molto comodo questo Pazzesco No 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 Dobbiamo Ammazzare il volo Questa brutta Agente Per poi dormire Si E' una roba un po' strana Però possiamo Niente Non si può dormire E' una cosa un po' strana Però Però si Si può Si può usare il campfire La tenda dei Dei personaggi Va a vedere Ah è come una safe Chi è che c'è Aspetta che non siano sotto terra Avvelenato addirittura Wow Oh là Vediamo se il dormire mi toglie Ah no Prendere danno mi toglie Dal letto invece Comodissima comunque In giro se ne trovano Non male Non male E questa qua E' una cosa che mi son fatto io Perché Avevo la lapide A metà E' una storia Brutta e lunga Come ho scoperto Quei tre cubi Che sto puntando Con l'indicatore Quei tre cubi sott'acqua Praticamente Sono dei blocchi Dove manca l'acqua E là Sì l'acqua Puoi respirare In quei blocchi Casuali Non lo so Comunque Semplicemente da qui Bisogna prendere la nostra barchetta Ci pushiamo in avanti Raggiù Sono morto Perché sono down Appunto per la Per la luna rossa Ma sono morto così lontano Perché stavo scappando Dalla parte opposta Pensavo di appunto Correre verso di qua Ma niente Ecco Si può Se possiamo notare Le prime case La struttura volante Di cui vi parlavo Che c'è ancora un albero Però in teoria Ce ne erano due Io ne ho rimosso solo uno Spero ci sia ancora l'altro Anche Se la teniamo qua Speriamo di ricordarci Che qua E niente Vi faccio un po' di exploration Qua Vediamo anche se c'è qualche altra quest Che se si può migliorare qualcosa Se gli possiamo dare dei materiali Anche Se non abbiamo dietro molto Ci starebbe Qua me la giostro un po' Alcune live Faccio Esploro Cerco di progredire Con la millenair Proprio Altre live Recupero materiali Progredisco Tecnicamente Sotto altri punti di vista Come dio No Ah perché io Eh Sta roba non l'ho capita Io posso attraversare le porte Però gli ho fatto l'atto Perché io non ho il piccone Spero che ne abbiano uno loro Sicuramente Perché Spaccano Lavorano E fanno Allora perché mi piaceva Certo C'è anche da dire Perché mi piaceva questo Villaggetto Uno perché è gigante Ma c'è ma è gigante Io provo a cliccare destro Tu status Scocciatore Ti stiamo osservando Il lumi Sei avvisato Hai capito Solo perché non ho portato Ho accettato una missione Che dovevo portare Un budino nero Al marito Di quella donna Non l'ho dato in tempo Mi stanno osservando Cioè sono avvisato Incredibile Abitazioni possibili Eh qua tra l'altro C'hanno anche l'hotel Molto interessante Molto interessante Possiamo parlare col pisellino? No Eeeh Beh nelle chest Credo sia inutile Anche guardare Perché Pietrame Risorse Mmm Vetture Legno di quercia Eh perché io non ce l'ho Se no Pietrame O legno qualsiasi Nessuna costruzione Nessuna costruzione in corso Cioè tu mi vuoi dire Che io se metto In questa Chest qua Del legno qualsiasi O del pietra Dobbiamo provare questo Dobbiamo provare questo Eeeh Beh già che c'è Del legno qualsiasi Anche possiamo Semplicemente vedere Senza star lì a scavare Legno qualsiasi E non posso toccare Il mio materiale Oh Panini Mi comprano i panini Eh eh Vabbè Clicco col tasto destro E me li vende tutti Non ho più cibo Va bene Va bene Legno Strada lastricata Che figo Carote abitanti Mela Per il sidro Vabbè Non Non mi interessa niente No volevo dargli Ah una zappa Se la vuoi Si 50 Daniele ci hanno dato Per tutto ciò Cioè io vorrei Vorrei Inserire Vorrei Una volta mi ricordo Che c'erano questi Appunto Per esempio Pietrame 0 su 81 Io andavo lì Inserivo manualmente La pietra che avevo E proseguiva E così appunto Quando avevano il materiale Man mano Andavano avanti E costruivano le case Ma qua mi sembra Veramente tutto molto strano Non Non capisco Non so se Casa di fango Mele Qua possiamo rubare? No Serebbe però Serebbe rubare Comunque dicevamo Allora Perché è fighissimo Tutto i cavalli C'è sempre qua Un gruppo Non ci posso credere Che ridere Come che Ma va Che figa Importazioni Esportati Questo qua è un centro Di Un centro estero E poche parole Non so come si chiamano Le palle Non so come fare a toglierle Qua non si può più fare Comunque questa è la gigante magione Molto Molto fighissima Buggati Straniero sgradito Straniero sgradito proprio E dimostrato di essere Una vera Scocciatura In questo posto Devi essere felice Che non ti abbiamo ancora Sbattuto fuori Minchia Punti disponibili The blood moon is rising No 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 Dobbiamo correre Cioè di già Come cazzo Cioè ogni 8 giorni C'è sta cazzo No 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 Qua non abbiamo neanche cibo Non corriamo neanche bene No no Questo è un gran problema Vabbè Sono riuscito a farvi vedere Il villaggio perlomeno Eccola là Speriamo di non morire Eeeh Tanto su quell'isola E là sopra Ci siete già stati Dopo No lento 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 Che non ho neanche cibo Capito No no frate No fratek Dobbiamo arrivare alla barca Che spero che sia qui Proprio No 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 Sono già iniziati a spawnare Guarda Tre solo qua Guarda Guarda Che roba Guarda Guarda E non abbiamo E non abbiamo vita Cioè Cosciotti Quindi tutto Tutto il danno che prendiamo Ma Non verrà Refullato Però attenzione Usufruiamo Usufruiamo Della carne di zombie Giusto per Ripristinarci Ah no Non ha senso Perché Vediamo se li perdo Perché non mi ricordo Vediamo se li perdo Tutti o meno Però È a piedi Come è facile Andare a piedi C'è un po' distante Siamo obbligati Siamo obbligati Guarda Gente Guarda C'è Però la carne di zombie Sono rimasti Cosciotti What the fuck Minchia sono un figo L'avevo messo tutto torce Quindi lì 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 Proprio all'entrata Non spawna nessuno E invece sono riusciti A spawnare lo stesso Non viene fatto proprio un cazzo Torce o no torce Ah mangio uno di questo E il fatto è che Di lì Devo andare giù Non devono avere frecce esplosive Innanzitutto Perché mi incazzo Buono Buono Vai 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 L'accio 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 Troppo forte Troppo forte lo zio L'accio 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 Dimmi che la miniera è safe Dimmi che la miniera è safe Pare di sì Pare di sì Perché non so Sinceramente non so Se ci troviamo Mille mob anche qua Non pare ma Non pare Buono Buono ci abbiamo fatta Ecco Questi erano tutti Gli aggiornamenti Di questa serie Di questa serie Adesso appunto La proseguiremo ancora In Cioè proseguiremo Sia l'esplorazione Che vabbè ovviamente Tutto il resto E appunto Dovremmo cercare di concentrarci Un po' più Sul fattore esplorazione Perché Non sto ben capendo Non sto ben capendo Cioè ci sono tantissimi input Tantissime cose In questi villaggi Però come dicevo Fin dall'inizio Dall'episodio 1 Di questa serie Non lo so Perché mi sembra Veramente tutto Buggato O è tutto Buggato O non ci capisco Veramente un cazzo Però Cioè Non capirci un cazzo Del C'è una porta chiusa La posso aprire Quelle che non posso aprire Chiuse Le posso attraversare Cioè Non ha senso più che Non sto capendo Mi sfugge qualcosa Secondo me Quindi Non lo so Non lo so Fatemi sapere anche voi Se vi piace questa serie O cosa Cioè Datemi un Un vostro Pensiero Che così Così Decidiamo Comunque se proseguirlo O meno Cioè a me piace tantissimo Nel senso Però certo che Se è buggato Non Non ha proprio senso Giocarci E Stessa cosa Se non vi piace Cioè non sto neanche qua A registrarlo Piuttosto Siccome che Come dicevo In una Live precedente C'ho Ho comunque Tantissime Tantissime idee Tantissime serie Tantissimi giochi Nonostante al momento Non possa streamare Non possa usufruire Usufruirne di molti Con questo pc Però Ho comunque Veramente tante idee Anche con lo stesso Minecraft Cioè Mi piacerebbe Riprovare di nuovo La mod dei dinosauri C'è una persona Che mi ha creato Una mod Mi ha chiesto Se la testavo Ci sono Un bel po' di cose Ci sono Un bel po' di cose Quindi Commentate Fatemi sapere In caso Vediamo che fare Beh Io Vi posso anche In realtà salutare Ah Ultima cosa Giusto Per Per aggiornarvi Ci avevamo messo Una live intera Praticamente Un metà live Soltanto per fare Il jetpack Ah Minchia Sembra così buio Soltanto per fare Il jetpack Ok A causa di un bug Il jetpack L'abbiamo Cioè è sparito Non l'abbiamo perso È semplicemente Scomparso Ce l'avevo in mano Me lo son tolto Dal Dall'equipaggiamento E non mi ricordo Che cazzo è stato Non Dov'è Dov'è Non ce l'ha più Nessuna parte Non l'avevo Droppato Non l'avevo Non c'era più Nell'inventario Non ce l'avevo Equipaggiato Non c'era più Quindi Ecco Piccolo aggiornamento Ci siamo fatti il culo Per metà live E E per un cazzo Di bug Perché Ripeto Non Altre spiegazioni Lì non Cioè non ce n'erano Ci siamo ritrovati Un po' così Voi mi fottete Uscite Quindi Amici miei Vediamo se si può dormire Ma in teoria no Non ti senti stanco Vabbè In teoria E Amici Ripeto Mi fate un favorone Se mi date Do Do pareri Nei Nei commenti Da Illumi Jonathan È tutto Ci vediamo O su Twitch Oppure In un prossimo video Ciao belli